gentili telespettatori buona giornata si può andare in pensione prima c'è un modo di andarci lo stesso prima indipendentemente da quello che dice lo stato lo si può fare facendo un mutuo ecco come si potrebbe fare il diretto interessato dovrebbe rinunciare ad una parte dell'assegno mensile per rifondare la banca che ha anticipato il denaro come vediamo un po solo un'uscita anticipata dal mondo del lavoro di chi ancora occupato attende il momento per andare in pensione potrebbe favorire un ricambio generazionale consentendo ai giovani di non tardare troppo il loro ingresso negli ingranaggi del sistema economico ma chi deve andare in pensione sì o no sapete quanto gliene può fregare di meno del giovane che non trova lavoro che se lui va in pensione lo trova uno che va in pensione pensa sta pensando a se stesso dai non non raccontiamoci le storie di babbo natale vado in pensione prima per favorire un ricambio generazionale ma va là va là parliamoci chiaro ecco perché dice si lavora sulla possibilità di creare uno scivolo per favorire l'uscita anticipata dei lavoratori fino a circa quattro anni prima del previsto magari attraverso la sottoscrizione di un vero e proprio contratto di mutuo un prestito non si tratterebbe sottolineiamo di una scelta indolore per i diretti interessati non è un'uscita diciamo trovato il modo ma ci sono dei dei problemi i quali per aderire un'iniziativa del genere dovrebbero subire una decurtazione dell'assegno previdenziale mensile una controindicazione che però non sta bloccando il progetto che come anticipato da investire oggi prevederebbe la possibilità di ricorrere a fonti di finanziamento complementari questi ipotetici fondi che beneficerebbero della garanzia dello stato potrebbero consentire ai lavoratori vicini alla pensione di ottenere dei mutui a tassi agevolati in parole povere si si dovrebbe trattare di una sorta di pensione anticipata che prevede il pagamento dei rimanenti contributi previdenziali tramite un mutuo utilizzando il tfr trattamento di fini rapporto e come fondo di garanzia ripetiamo una pensione anticipata che prevede il pagamento dei rimanenti contributi previdenziali tramite un mutuo quindi il mutuo con il mutuo voi pagate i contributi nel momento in cui il lavoratore arriva a maturare i requisiti richiesti l'inps può iniziare a versare la pensione come anticipato si dovrebbe però trattare di un assegno ridotto dato che l'ente previdenziale si occuperebbe di trattenere una parte della pensione per rifondare la banca il mutuo anticipato e di relativi interessi si può ipotizzare ad esempio il caso di un lavoratore che matura 65 anni i requisiti per la pensione ma voglia lasciare il mondo del lavoro a 61 4 anni prima potrebbe accedere ad un mutuo garantito dallo stato l'istituto bancario intermediario erogerebbe così mensilmente un assegno previdenziale fino al raggiungimento dei 65 anni quindi per quattro anni la banca vi paga l'assegno da quel momento in poi sarebbe l'inps ad erogare l'assegno previsto sottraendo tuttavia da esso la parte di mutuo anticipata per quattro anni dalla banca comprensiva di interessi quindi avrete poi una pensione più bassa perché state pagando quei quattro anni che vi hanno dato la pensione beh insomma fate conto ad esempio un 1500 euro sono 18.000 all'anno 18.000 all'anno per quattro anni sono 72.000 euro insomma 72.000 euro da ridare più gli interessi mensilmente c'è una riduzione abbastanza consistente della della pensione cioè alla fine voi vi date la pensione da soli quattro anni prima con un mutuo agevolato che vi passa un assegno mensile e poi quando vi arriva la vera pensione vanno a farvi pagare i soldi che che vi sono stati dati prima cioè quei 1500 euro ogni mese per quattro anni ve li state dando da soli ve li state anticipando e poi quando arriva la pensione ve li vanno a far pagare mensilmente tutti pertanto quei quattro anni quei 72.000 euro non sono un regalo anzi dovrete restituire i 72.000 euro con gli interessi negli anni successivi decurtando mensilmente dalla pensione una certa percentuale è una possibilità poi dice ad esempio c'è un commento dice scusate dall'articolo non ho capito se è finita la pantomima si avrà la pensione piena oppure no oppure quel che prendi prendi per sempre dipende in quanto poi si vanno a estinguere questi 72.000 euro ipotetici si vanno ad estinguere in dieci anni in cinque anni in vent'anni quindi poi quando finisce l'estinzione del mutuo ritorna la pensione piena e poi uno dice ma che cavolata se non si hanno i contributi si lavora a punto risponde uno e l'altro dice se volete un suggerimento prendete un prestito di 400.000 euro a vent'anni e ve ne andate in Thailandia o nelle Filippine a pescare alla tenera età di 55 anni non c'è bisogno di ingrassare IMS sindacati e banche ricordate che in economia i debiti è sempre meglio non averli beh prima fa un suggerimento e poi dice i debiti è meglio non averli un prestito di 400.000 euro restituibile in vent'anni e ve ne andate in Thailandia e chi le restituisce quei soldi in vent'anni beh l'altro dice mi sembra una buona idea come sempre qualcuno non è d'accordo ma il mutuo si fa per tanti acquisti perché non si può fare per la pensione beh sì eh sì e poi l'altro dice praticamente un pizzo chiamato mutuo e forse ci capiterà leggere che i sindacati e le cosiddette parti sociali saranno d'accordo naturalmente ricevendo promesse su una parte pure piccina di quel pizzo chiamato mutuo diciamo che qui si è voluta presentare anche un modo per poter andare in pensione prima con lo Stato che ti fa un mutuo agevolato in accordo con la banca è una possibilità non è detto che adesso dovete fare il mutuo per andare in pensione grazie a tutti e buon proseguimento di giornata